L'emozione è pervenuta maggiormente a me, che sono ancora tutt'oggi emozionato, è da abbracciarli più che altro. Io ho abbracciato per prima il grande e la mamma ha abbracciato il più piccolo. È un'emozione da non poter dire, già il primo giorno al grande mi sono presentato con il nome perché non sapevo nemmeno io come fargli capire e lui mi ha ripetuto subito il mio nome. Dopo un po' ho detto però io sono il tuo papà e lui ha ripetuto papà. Loro aspettano dietro alla porta e chiamano papà, papà, papà. È un'emozione infinita quindi incido a tutti ad adottare perché bisogna adottare e dare tanta felicità a questi bambini che ne hanno molto bisogno e soprattutto aiutare a coloro che vogliono adottare, però purtroppo per l'internazionale non hanno tante possibilità.